La festa liturgica dell'ascensione ha un valore mistico e ascetico molto importante per la spiritualità vocazionista. Il padre fondatore Don Giustino Maria Russolillo invita tutti i suoi religiosi e tutti i cristiani a seguire il Signore Risorto lunghe le vie del mondo e ad ascendere a tutte le montagne della santità e della perfezione. Gesù, asceso al cielo, ci indica il fine ultimo della vita di ogni uomo. Ogni persona umana è chiamata a vivere su questa terra con lo sguardo rivolto al cielo.